Il duca e la duchessa di Sussex, hanno avuto un anno tumultuoso, con diversi fallimenti commerciali, e una popolarità in calo. Secondo un commentatore reale, la vita del principe Ferri e di Meghan Markle, dopo essersi ritirati dalla carica di membri della famiglia reale, non è stata a dir poco un disastro. Molti dei piani del duca e della duchessa di Sussex, non si sono concretizzati come previsto nel 2023, e la loro popolarità su entrambe le sponde dell'Atlantico, è crollata negli ultimi mesi. Una faida familiare sempre più profonda, ha visto il principe Ferri e Meghan Markle, esclusi dalle celebrazioni natalizie della famiglia reale. È giusto supporre che la coppia californiana voglia disperatamente voltare pagina nel 2024, con quest'anno a dir poco un disastro. Secondo TalkTV, il libro di memorie del principe Ferri, Sper, è stato pubblicato il 10 gennaio e, nonostante abbia venduto incredibilmente bene, ha dimostrato che i rapporti tra il 39 enne e suo fratello, il principe William, sono quasi recisi. Nel frattempo, Jeremy Zimmer, amministratore delegato della United Talent Agency, ha affermato che Meghan Markle non ha nessun tipo di talento dopo che il suo contratto per il podcast Archetypes con Spotify è stato interrotto dopo soli 12 episodi. Il fatto è che anche Archevel, l'organizzazione benefica del duo di Montecito, ha visto le donazioni crollare di 9 milioni di dollari in un solo anno, a soli 1,2 milioni di dollari.